vuoi vincere una skin o devobux gratis su fortet? bastere iscriverti attivando la campanella lasciare like e condividere il video più amici fare iscrivere più possibilità di vincita avrai non mancherai nelle mie live su youtube se vuoi vincere skin pass battaglia in questo non vi tendrò a parlare della nuova agenzia la season 3 che vi lo due di fortet infatti abbiamo davvero tantissime notizie e appunto un quadro qui posto all'agenzia ci spoilerà come sarà la prossima l'agenzia della prossima stagione dopo l'evento doomsday quindi prima di incominciare ricordo di essere un bel like iscrivervi attivando la campanella e le notifiche per essere sempre aggiornati su questi tipi di video e le live dove regalo skin o pass battaglia vi ricordo che a 7000 iscritti farò una live dove regalerò 3 o 4 regali agli iscritti quindi se ancora non sei iscritto iscriviti e fai iscrivere tutti quanti i tuoi amici arriviamo a questi 7000 iscritti quindi partiamo subito col video partiamo subito il video ci siamo appunto all'agenzia l'agenzia nuovo poi di questa stagione nuova località di questa stagione appunto questa agenzia nascono in molti segreti infatti qui avverrà l'evento doomsday evento giorno del giudizio dove sto parlando davvero tanto infatti se ci richiamo proprio all'agenzia spacchiamo c'è un po di materiali giusto per fare una scala quindi mettiamo proprio la scala qui e andiamo qui possiamo vedere esattamente un quadro adesso vediamo qui questo quadro guardate questo quadro questo quadro raffigura proprio l'agenzia ma come ben potete vedere non è l'agenzia che abbiamo in questo momento in gioco è totalmente diverso se potete vedere è molto più potente molto più grande anche si vede anche molto che non c'è l'acqua attorno infatti sembra molto rialzata e anche il panorama attorno è molto diverso che cosa vuole andare a raffigurarci questa agenzia adesso vi faccio un po dei leaks che stanno un po girando un po su tutto un po su twitter un po sui vari social o vari forum dedicati a forte questa teoria sarebbe appunto che con l'evento doomsday evento il giorno del giudizio il macchinario il giorno del giudizio posto sotto l'agenzia che si attiverà lo apaccio 12.60 questo macchinario quando si andrà a collegare a tutte quante le botole durante l'evento farà esplodere l'agenzia infatti nei file di gioco questo lo vedete benissimo c'è un file che varrà a raffigurare una parte e la parte frontale dell'agenzia totalmente distrutta quindi l'agenzia sarà distrutta a fine season rimarremo qualche giorno con l'agenzia totalmente distrutta quindi con una parte totalmente distrutta probabilmente la parte avanti dopo che sarà distrutta passeremo alla prossima season infatti con la prossima season come ben sappiamo al centro della mappa ci sarà una plaza la plaza sarebbe una mega piazza quindi ci sarà una mega piazza dove si trova l'agenzia e poi ci sarà tipo una specie di... l'agenzia diventerà una specie di fortezza che si innalzerà molto più alto e molto più possente poi posso vedere questa foto infatti qui sembra proprio essere una fortezza infatti è molto realzata e posso vedere anche una montagna che è tipo sopra una montagna quindi a parer mio questa sarà la nuova agenzia della prossima stagione fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa nuova agenzia infatti questo quadro se volete venire a vedere si trova proprio dentro l'agenzia quindi manca sempre meno all'evento finale fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto con un commento ovviamente vi terrò aggiornati e se ci saranno altre notizie soprattutto la prossima patch che è la 12.60 che arriverà in questa settimana ormai è ufficiale già nei fall di gioco quindi se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like iscrivervi attivando la campagna delle notifiche per essere sempre aggiornati su questi video guida, tutorial o video delix sulla prossima stagione noi ci vediamo per il suo video, una prossima live Grazie 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 Grazie